Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, domenica 22 dicembre. Ariete, disorganizzati ma espansivi e affettuosi, vi farete perdonare le mancanze organizzative con la vostra contagiosa carica umana. Energia pimpante che sprizza da tutti i pori, durante feste e riunioni familiari tenete banco con la vostra simpatia. Toro, invece di fasciarmi la testa prima di esserve la rotta, ipotizzando una dimenticanza imperdonabile, respinate con calma e rivisitate ogni dettaglio. Occhio a non smarrire oggetti a cui tenete. In vista di una serata mondana, organizzatevi per tempo. Gemelli, nessun ansia a turbare la domenica, tutto sistemato a puntino, non vi resta che godervi la giornata riscaldata dalla compagnia delle persone care. Qualcuno vi sorprenderà con un regalo ad effetto, non dimenticate di ringraziarlo come merita. Cancro, il lavoro richiede impegno extra e la stanchezza aumenta. Per fortuna la vita sociale intensa scongiura la routine e promette soddisfazioni. Una buona giornata per mettere in ordine la casa, dedicarsi ai lavoretti artistici e agli acquisti. Leone, gli aspetti favorevoli della luna e di mercurio vi fanno dono di una dialettica convincente. Guidano i vostri acquisti e tutelano i viaggi e gli affari. Le sorprese non mancheranno e potranno essere anche piacevoli. Dunque tenetevi aperti alle novità. Vergine, vi sentite veramente rassicurati? Tutto sta andando come previsto. Ora rimangono soltanto alcuni ritocchi perché la festa risulti perfetta. Complimenti, la vostra organizzazione come sempre è ineccepibile, neutralizza qualsiasi imprevisto. Bilancia, la giornata è ideale per chi come voi ha bisogno di contatti, di comunicazioni e di condividere con gli altri interessi di alta levatura. Vi verranno offerte belle occasioni per un tuffo salutare fuori dalla routine e per conoscere persone un po' speciali. Scorpione, la luna in leone alimenta l'ambizione, tuttavia non fate il passo più lungo della gamba, magari per mostrare agli altri di cosa siete capaci. Spese esagerate per una festa in casa che oltretutto potrebbe non avere la riuscita desiderata. Sagittario, per garantire la serenità, la luna in leone è ideale. Più brillanti del consueto, tra gli amici tenete banco guadagnandovi complimenti e simpatie. Capricorno, avete lavorato sodo e adesso avete voglia di tranquillità, infatti state pensando di trascorrere il Natale con i genitori, partner ed amici intimi. Una giornata senza sorprese, secondo i programmi, chi ha figli piccoli potrà passare più tempo con loro. Acquario, davvero un peccato sprecare le energie e dono di Marte in iniziative senza costrutto. Canalizzate in modo proficuo le vostre risorse, gli impegni da sbrigare, i familiari che non vi danno tregua, i contrattempi che non vi aiutano, giornata stancante. Pesci, il vostro modo di agire vi farà guadagnare la stima e il rispetto delle altre persone. Sarete più dolci, affettuosi e generosi che mai. Potrete abbellire la casa, fare innovazioni simpatiche e di gran classe una sorpresa in arrivo. Grazie a tutti.